Carabinieri, forestali e guardia parco sono impegnati giorno e notte nel tentativo di rintracciare e catturare i cuccioli di Amarena per metterli in salvo. I due piccoli orsi sono stati avvistati ma non è facile prelevarli e sono troppo giovani per essere narcotizzati. Senza soluzione di continuità abbiamo avviato immediatamente le ricerche dopo il tragico evento perché la nostra priorità al momento è quella di catturare i due cuccioli per garantirne la massima incolumità. Sono due cuccioli che al momento non sono capaci di vivere da soli e quindi abbiamo immediatamente H24 messo in atto una serie di servizi sia aerei come potete vedere alle mie spalle che anche via terra per cercare di prenderli nel modo più sereno possibile perché non possono essere addormentati in ragione della giovane età che hanno. Quindi quasi per ogni turno abbiamo dai 20 alle 30 unità che a volte si accavallano perché sembrerebbe dalle ultime notizie che i due cuccioli si siano leggermente separati. Quindi ci sono due squadre che ognuna segue il cucciolo che sono stati visti, individuati però proprio per le particolari modalità di cattura dobbiamo essere molto cauti e soprattutto molto delicati nell'approccio all'animale. Sul posto è operativo anche un elicottero dei carabinieri giunto appositamente da Rieti. Le attività sono fatte via aereo attraverso il nucleo elicotteri di Rieti di cui vedete appunto la macchina alle mie spalle nonché anche attraverso un drone della regione carabinieri forestale che attraverso anche una speciale telecamera, una telecamera termica riesce a individuarlo anche nel bosco la presenza di animali. Sul terreno ovviamente poi ci sono le pattuglie sia della stazione carabinieri che del reparto parco che del gruppo forestale. E al momento la magistratura sta vagliando tutti gli accertamenti già espletati e sta valutando appunto le eventuali ipotesi di reato. Un mazzo di fiori è stato posto da una famiglia giunta sul luogo in cui ha perso la vita l'orsa marena.